Sindacati in piazza per dire no al taglio degli ammortizzatori sociali che facilita il licenziamento? Sì, questo è uno dei punti dell'iniziativa confederale di CGL Cisle Will, uno dei punti qualificanti è il taglio degli ammortizzatori sociali. L'esempio lampante è il caso dell'Atria? L'esempio lampante è il caso dell'Atria, noi abbiamo constatato con mano in questa avvertenza che in Italia col Job Act si è deciso di rendere più conveniente il licenziamento che la gestione della cassa integrazione o della solidarietà, ragion per cui le aziende stanno procedendo a licenziare. La protesta a Teramo si è svolta davanti alla prefettura? Sì, si è svolta davanti alla prefettura, è un'iniziativa generale nazionale che avrà anche un seguito spero e questo è uno degli esempi sulla carne viva dei lavoratori. Cosa chiedete? Chiediamo di ripristinare gli strumenti di gestione della crisi perché la crisi non è affatto passata, le aziende stanno continuando a falcidiare posti di lavoro con ristrutturazioni chiusure, faccio anche notare che c'è stata l'abolizione della cassa integrazione per procedure fallimentari che è un assurdo perché le aziende continuano anche a fallire o andare inconcordato, con questa strumentazione non si riesce a salvare posti di lavoro.